Fino a poco tempo fa era un'area incolta e recintata, siamo in via Sassari a Bolzano, Rione Don Bosco, tra i più popolosi e assetati di spazi verdi in tutta la città. L'area è stata completamente sistemata e trasformata dopo che si era concluso il complesso iter burocratico per l'acquisizione da parte del comune della stessa area, attraverso la definizione tramite apposita convenzione con l'IPES di un accordo che prevedeva una serie di permute di aree. Si è preferito avere, anziché un unico spazio pavimentato, un'articolazione di percorsi che possono mettere in collegamento gli spazi pubblici esistenti con gli altri spazi ricreativi per consentirne un uso temporale e multifunzionale. La zona oggetto di intervento si affaccia come detto a nord su via Sassari ed è prospicente alla chiesa di San Giovanni Bosco, mentre verso sud conduce a via Alessandria. È una piazza che è diventata un parco e noi siamo molto contenti perché tra il resto è da alcuni giorni ormai che è aperto questo spazio e vediamo già che la gente l'ha popolato e si è preso a possesso di questo luogo. Tra il resto stiamo vedendo che anche a livello nazionale e a livello europeo molti stanno trasformando le piazze in parchi perché i parchi sono quelli più vissuti in assoluto dalla popolazione, dai bambini, dagli adulti, dagli anziani e insomma diventano luogo di buona vivibilità per una zona come questa che è una zona popolosa.